Questo è il mondo nostro, ci siamo nati, ci conoscono tutti. La questione, qua bisogna che se ne andiamo da sto paese. L'ho sentito pure io che c'è stato un sacco di pensionati che vanno a vivere all'estero, dice che se capa meglio. Però tu la pensione non ce l'hai. Posso decidere partire pure senza la pensione, no? Oh, io sono cittadino del mondo! Andiamo, però andiamo. Le Azzorre, un arcipelago dell'Oceano Atlantico, è il posto perfetto per voi tre. Si parla portoghese. Cavallo, cavallo. Saúde. Saúde. Io devo fare il trasferimento della pensione. Dove? All'estero. E poi volevo sapere se si poteva in anticipo. No. Ma sai qual è il problema? Che ogni anno per noi coracci va sempre peggio. Ma perché sei un coraccio te, papà? I rischi. Bisogna saperli correre. Bisogna saper credere in qualcosa. Io, per esempio, credo che se mia moglie è uscita, adesso potremmo averci un grappino. rischi. Gli dispiace un po' che vai. E pure a me. Rischi. Rischi. Grazie a tutti.